Siamo con Emanuele Mauri, questa volta come segretario cittadino della Lega. Con un documento, con più documenti se non ricordo male, e con altrettante numerose dichiarazioni, la Lega chiede un intervento più deciso, più risoluto, addirittura chiama in causa l'esercito per assicurare l'ordine pubblico nella città di Lecco, in particolare nelle zone più centrali. Sì, esattamente, noi siamo seriamente preoccupati dalle ultime vicende che hanno interessato in particolare l'area del centro, l'area della stazione ferroviaria. Ci sono stati fenomeni legati a microcriminalità, risse, per non parlare anche di furti a carico dei commercianti, sempre nell'area del centro. Noi pensiamo che la stazione ferroviaria rappresenti un polo centrale della città che chiaramente è frequentata da turisti, pendolari, cittadini, ma che è frequentata anche da, diciamo, possiamo chiamarli potenziali pendolari del crimine, nel senso che poi è un punto in cui approdano cittadini anche da altre zone di mitrofe del territorio o meno, o dal milanese. Questo, diciamo, ultimamente lo si può vedere chiaramente perché ci sono parecchie persone che stazionano nell'area, in particolare nella stazione, e sono chiaramente lì senza avere una, come dire, un'attività lavorativa o di studio in città. questo ha portato poi a tutta una serie di fenomeni che sono stati denunciati anche dai cittadini. Noi abbiamo chiesto di valutare la possibilità di attuare un presidio fisso attraverso l'arrivo dell'esercito con l'operazione strade sicure. È stata fatta la stessa cosa anche in altre zone contigue al nostro territorio, anche nella zona di Erba, per citarne soltanto una. Noi pensiamo che questa risorsa, messa a disposizione dai governi precedenti e prorogata dal governo attuale per il quale sono state stanziate le risorse, rappresenta un'opportunità perché le forze di polizia stanno già facendo un grande lavoro, ma non possono chiaramente presidiare H24 le piazze o le vie interessate. Mi riferisco alla piazza della stazione, mi riferisco a piazza di Iaz, mi riferisco a Via Volta, mi riferisco alla zona del centro e avere un presidio fisso con dei militari potrebbe servire da deterrente oltre che da attività di controllo perché poi i militari avrebbero funzioni di ordine pubblico e potrebbero a loro volta identificare anche persone con dei comportamenti sospetti. Un'altra domanda riguarda la viabilità cittadina, la città è occupata in parecchi settori, in parecchie strade, da diversi cantieri, si chiede una maggiore presenza anche in zone di traffico limitato o dirottato da parte della polizia locale? Sì, sicuramente anche questo è un punto da monitorare attentamente perché i cittadini spesso si ritrovano con la viabilità cambiata e con delle zone che prima erano ampiamente frequentate e che poi diventano zone isolate. Questo può essere un problema sul piano della sicurezza, può essere un problema anche per un commerciante sul piano dell'attività lavorativa perché una zona potrebbe venire tagliata fuori da un flusso veicolare che agevola poi l'attività commerciale, potrebbero venire a mancare delle aree di parcheggio invece indispensabili per chi esercita un'attività, quindi occorre prestare attenzione anche a questo aspetto che talvolta può diventare critico. Mi viene in mente poi in particolare ed è stato denunciato più volte anche il problema del parcheggio del centro sportivo del Bione che anche lì è spesso oggetto di furti, atti vandalici o quant'altro a carico delle auto che poi sono lì parcheggiate magari per ore visto che poi l'utilizzatore del centro vi staziona anche per parecchie ore.